Finisce 88-75 il derby in Serie B tra Chieti e Roseto, terzo quarto determinante Presidente Marchesani. Devo dire che abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, l'esatto contrario delle due trasferte a Vicenza e a Lumezzane. Abbiamo giocato contro una squadra molto attrezzata, molto forte. Terzo e quarto quarto, come hai detto tu, siamo stati devastanti. Abbiamo dominato, abbiamo vinto di 13, ma il punteggio poteva essere tranquillamente molto più largo. Devo fare complimenti ai miei ragazzi e ad un pubblico veramente strepitoso, credo che oggi abbiamo superato le 1500 presenze. Vittoria meritata da parte della Chieti 1974, noi molto bene i primi due quarti e purtroppo come la partita di Supercoppa è molto meno bene terzo e quarto quarto. Quindi onore ai vincitori, bisogna rispettare sempre chi vince e chi ha avuto la meglio. Cosa è mancato dopo l'intervallo? Ma non lo so, forse è mancato un po' di benzina, chiamiamolo così, un po' di ossigeno e soprattutto, fatemelo dire, è mancato anche Poletti, soprattutto Poletti.